Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video estrazione del contest riguardante la battaglia Shushodown con uno di voi Quindi signori miei, subito carichi, abbiamo i 60 partecipanti qui su Random Org perché avete partecipato in 60 Ho qui tutti i vostri commenti, ho eliminato ovviamente le varie risposte o commenti non inerenti per il semplice fatto di poter far prima Quindi nel caso non aveste scritto partecipo ovviamente ho eliminato il vostro commento perché come ho detto nel video Per partecipare dovete scrivere appunto partecipo E comunque estrarrò tre persone così che se il primo comunque non dovesse diciamo essere disponibile ci sarà il secondo e nel caso non ci fosse neanche il secondo il terzo Generiamo il primo numero Due E quindi Luca Martino Luca Martino mi devi contattare su Discord A parte che su Discord non puoi, su Telegram, su Facebook, messaggio privato su Youtube anche se è un po' più difficile Ma va bene lo stesso E ci mettiamo d'accordo per questa diciamo sfida Ecco qua Primo vincitore quindi Luca Martino io spero di ricordarmi Abbiamo, andiamo ad estrarre il secondo 57 Stavolta mi mandate a casa di Dio quindi Allora 60 59 58 57 Giulio Gerardini Giulio Gerardini sei il secondo vincitore Quindi nel caso Luca Martino non dovesse rispondere alla sua chiamata verso il dovere Sarai tu il partecipante in quel caso ti avviserò io Tra l'altro Luca Martino hai, ti do tre giorni per contattarmi Direi che sono più che sufficienti Nel caso non dovesse contattarmi Luca passeremo a Giulio E nel caso anche Giulio dovesse essere stato rapito dagli alieni Abbiamo il 52 Quindi se Giulio era il 57 56 55 54 53 Dragonflyro 52 Sei il terzo partecipato Cioè il terzo vincitore perché eravate in 60 a partecipare Se gli altri due non risponderanno ti farò sapere E in quel caso ci metteremo d'accordo Quindi signori miei Luca Martino mi deve contattare da qualsiasi parte per mettersi d'accordo Nel caso non dovesse rispondere entro tre giorni Quindi entro mercoledì Passerò subito a Giulio Gerardini E nel caso anche lui entro tre giorni ovviamente non dovesse rispondermi L'ultima scelta sarà Dragonflyro Signori miei comunque ci saranno tanti contest di questo tipo Perché mi piace fare qualche battaglia su Showdown insieme a voi Magari chissà anche su Sole e Luna in futuro Qualche battaglia diciamo online o comunque qualche battle royale Così qualche boiata del genere E nulla mi raccomando al vincitore di contattarmi E noi ci metchiamo in un prossimo video Ciao